Parecchi comuni recentemente premiati a Catania nella manifestazione Sicilia Virtuosa vengono quotidianamente serviti dall'azienda Agesp Successo, quindi non per le municipalità che hanno ricevuto l'ambito premio ma anche per questo marchio impegnato da decenni nell'ambito della raccolta dei rifiuti solidi urbani. L'intervista è l'imprenditrice Silvia, buongiorno. È vero, più di 15 comuni premiati a Catania per aver raggiunto un percentuale di raccolta superiore al 65%, siamo molto contenti e come dico sempre questo è frutto di un'unione tra la pubblica amministrazione, l'azienda, quindi il personale dell'azienda e il cittadino che si impegna a svolgere giornalmente la sua raccolta differenziata. Oggi i comuni si trovano in una situazione un po' delicata perché ci sono pochi impianti, ad esempio quelli per quanto riguarda la raccolta dell'umido e quindi si fa fatica a cercare di mantenere queste percentuali di raccolta differenziate alte. È aumentata la sensibilità ambientale del cittadino siciliano. C'è stato un maggiore impegno da parte delle amministrazioni comunali, molti comuni diventano virtuosi. Dietro un servizio di raccolta differenziata c'è una certa progettualità fatta di tanti piccoli passaggi che poi consentono ad un'azienda e ad un comune di offrire un servizio di raccolta che funzioni al cittadino. Ciò che consente ad un comune di raggiungere una percentuale di raccolta differenziata alta è proprio un porta a porta spinto, cioè il servizio di raccolta presso l'abitazione di ogni singolo cittadino. Se un comune raggiunge dei buoni risultati ne siamo felici pure noi perché alla fine questa è l'immagine che si dà di sé all'interno delle comune in cui viene svolto appunto il servizio di raccolta. Quindi possiamo solo che essere felici per il lavoro che viene fatto giornalmente con grande impegno e con grande sacrificio.